Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Bardin, abito all'estero e sono sempre stato interessato alla carriera internazionale e alle politiche comunitarie. Oggi vi vorrei parlare di un corso che ho potuto seguire nel 2021, visto che ero interessato alla europrogettazione. Il corso, tra tanti corsi che ho potuto incontrare in rete, quello che più mi ha interessato e che mi ha colpito maggiormente è stato quello di europrogettazione di Mattia Di Tommaso. Diciamo che per scegliere le mie formazioni, i miei corsi, mi sono sempre basato sul mio istinto personale e anche questa volta pare che il mio istinto abbia azzeccato la soluzione giusta. Cercavo un corso che potesse allo stesso tempo sia darmi delle informazioni di tipo teorico che conciliarmi con un'azione di tipo pratico, ossia proprio potermi dare la possibilità di scrivere materialmente dei miei progetti che avevo nel cassetto e che tenevo da parte per tempi migliori. Per cui durante la formazione che ho avuto attraverso europrogettazione appunto ho potuto scrivere un paio di progetti progetti che tenevo da parte da diverso tempo e diciamo che i progetti che ho scritto sono stati tutti positivi per cui sono molto felice del risultato ottenuto e della possibilità che ho ricevuto con questa formazione. Se dovessi esprimere un parere sulla formazione di europrogettazione mi direi che è stata per me molto valida. Inoltre potrei dire tranquillamente che la rifarei una seconda volta perché ritengo che dia alla persona che partecipa tutte le informazioni necessarie per poter iniziare una carriera di comero progettista. Concludo dicendo che la consiglio a chi come me è interessato alle politiche comunitarie e che ha dei desideri dei progetti che vuole mettere su carta e che vuole realizzare nel futuro. Grazie e arrivederci a tutti.